Musica Bello a tutti ragazzi sono Zanzo, bentornati sul mio canale Oggi siamo in un nuovo episodio della serie principale di Minecraft, seconda stagione Devo dirvi una cosa, dal precedente episodio Che non è ancora uscito per me che sto registrando questo, ma per voi si È passato un bel po' di tempo Ho lavorato molto a questo progetto Ci ho messo veramente tanto, lavorandoci anche magari due o tre ore al giorno E ho sprecato un sacco di materiali Fortunatamente sono riuscito a reperirmi tanti qua in zona senza dover andare in miniera a scavare Quegli alberi là in fondo mi hanno salvato la vita Infatti ragazzi oggi sono qua per presentarvi ufficialmente casa nostra Infatti nel precedente episodio avevamo costruito solo il perimetro della casa Invece oggi la troverete già completa In modo da evitare, come nella prima stagione, che la casa, la costruzione della casa me la porti avanti Tipo 20 o 30 episodi E quindi ragazzi vi presento il castello di Zanzo Ok, è un po' grosso Non è ancora terminato Adesso vi faccio vedere Vi lo faccio vedere prima da fuori Salgo un po' verso l'alto Spero di non schiantarmi al suolo E ragazzi ci ho messo un bel po' a costruire questa cosa Però ne sono veramente veramente soddisfatto Questa sarà casa nostra Costruita in mezzo alle montagne E poi dovremo abbellire tutta la zona circostante Adesso con calma ve la faccio vedere Allora questa è la visuale dall'alto Quindi c'è un tetto qua centrale Che collega il muro esterno Che deve essere ancora finito Perché qua ci saranno delle altre torrettine Che poi costruiremo pian piano Quindi tutto questo tetto parte esternamente Si alza leggermente e si collega alla torre centrale Torre altissima, c'è già nevicato sopra Torre che al momento non è ancora accessibile Ma lo diventerà nei prossimi episodi Perché infatti non c'è ancora una scala che mi porterà qua sopra Qua sopra poi decideremo cosa fare Magari ci facciamo la partenza per l'elitra O sarò solo lì di bellezza Poi qua tutto intorno invece ho costruito Diciamo tutte le varie finestre Ho sistemato bene la struttura interna Più che quella esterna E adesso ve la faccio vedere Nell'episodio di oggi Come avete letto dal titolo Iniziamo a costruire il nostro magazzino Perché sin dall'inizio voglio avere tutto ben ordinato Allora metto giù questo Prendo tre diamanti ragazzi E mi faccio un altro piccone di diamante Perché chiaramente spaccando tutta la varia Tutta la roccia che mi serviva La cobblestone per fare tutta questa costruzione mastodontica Ho praticamente distrutto un piccone Tra l'altro ho finito anche il carbone Fortunatamente qua in zona ce ne erano alcune vene Quindi sono riuscito a tenerla abbastanza fornita E procediamo nella house tour Nell'house tour come possiamo chiamarlo Intanto guardate fuori Ho cercato di mettere più dettagli possibili Tipo come se le mura esterne Siano un po' rovinate dal tempo Allora questo è il portone di ingresso Entrando abbiamo qua a sinistra e qua a destra Due corridoi che ci portano alle varie torri Vi faccio vedere subito questa torre qua di sinistra Perché ho fatto anche una scala Che ci porta qua di sopra In modo da non dover fare strade improbabili Per salire sulle torri Questa scala c'è solo nella torre di sinistra E in quella esattamente opposta Non l'ho fatta in tutti Anche perché non avevo più materiale Quindi qua si passa oltre questo corridoietto Si entra nella prima torre Qua ho fatto queste aperture fatte così Qua c'è l'altra torre Qua mi sono dimenticato di piazzare un blocco What the fuck Qua c'è l'altra torre dove ci si può salire come di là Anche qua ho fatto queste finestre qua sulla destra Qui c'è l'altra torre ovviamente qua non si può salire E qua c'è l'ultimo corridoietto Quindi questi sono i corridoi laterali Che poi verranno abbelliti con dei quadri Con delle lampade e con altre cose Questa invece è la zona interna Come potete vedere Questa è tutta gigante Poi dovrò dividerla in stanze Ovviamente questo è il tetto visto da sopra Ho messo qua delle travi Per far sì che sembri che appunto All'interno queste travi stiano tenendo sul tetto E poi qua c'è questa zona Che è la zona interna della torre intanto Altissima Lì è aperto Ragazzi potete vedere perché Dalle mura esterna Poi si potrà andare anche in questa zona Perché qua c'era un primo piano della torre E qua sotto ho già iniziato a scavare un po' di cose Allora Intanto vado a recuperare un po' di legna Quindi devo craftarmi un'ascia Perché non ne ho più La farna di pesca momentaneamente l'ho spostata qua Butto giù questi alberi E direi che possiamo scendere sotto Poi nella zona che sarà adibita al magazzino Per Vediamo se riesco a spaccarlo Sì ok Per iniziare a costruire appunto il nostro magazzino In modo da essere sin da subito ben ordinati Non come nella prima stagione che il magazzino Ho iniziato a utilizzarlo bene solo da metà Allora Ho questi spruce log Vediamo se ne ho degli altri Beh intanto qua tutto il materiale lo prendo Queste lanterne le recupero Sono quelle che mi sono avanzate Anche lì ho dovuto usare un sacco di ferro Per fare tutte le lanterne E il magazzino ho deciso di costruirlo in quel buco Che avete visto prima Che ho scavato usando sempre quel piccone di diamante Che non ho più Lo vorrei far qua sotto Arca puttana Ecco dove era Qua l'infamozzo E' anche bella illuminata Come ha fatto a nascere qua sotto Vabbè Vorrei farlo qua Qui costruirò il classico jump pad Chiamiamolo così Con lo slime block In modo che qua ci saranno delle scalette Che mi portano qua sopra Io ci arrivo Schiaccio la pressure plate Tum Mi fa saltare E uno, due, tre, quattro, cinque Dovrei riuscire ad arrivare lì sopra Qua ci sono tutti i materiali che ho scavato qua dentro E direi che possiamo iniziare col craftare un po' di chest Allora come voglio fare intanto qua il magazzino Sicuramente tutte chest qua intorno Tutte tantissime Non doppie per il così Ma doppie per il lungo In modo che ci stia più materiale possibile Poi ovviamente dovrò utilizzare Come si chiamano i quadretti Quelli da attaccare sopra alle chest Per riconoscere il contenuto appunto di ogni chest Tanto per darvi un'idea Spacco anche questa Ok così ho un'altra chest doppia Eccola qua Iniziamo a mettere giù le varie chest Quindi partiamo Io direi Centralmente non mettiamo nessuna chest Ma ci sarà una sorta di divisorio Quindi qua ci saranno dei divisori Poi Iniziamo a mettere giù le chest Quindi una Due Tre Quattro Ok questa è un po' l'idea Che voglio dare alle O la tiro su di uno No Le metto su di uno Perché almeno non devo chinare la testa verso il basso Per aprirle Questo è l'effetto che volevo dargli Mangiamo un attimo Ne ho ancora otto Quindi io direi Per il momento di iniziare a fare Quella zona lì E una zona di qua Ok Altre 11 chest Quindi le mettiamo qua Le mettiamo qua Ok ce ne mancano tre poi Volendo possiamo iniziare a metterle giù qua Ok Questa sarà un po' la disposizione Poi ovviamente ce ne sta ancora una qua poi E tanto per prendere le misure Poi tutto verrà sostituito Da altro materiale Ok quindi Ipotizziamo Allora intanto voglio vedere Ok quindi noi arriviamo E scendiamo giù di lì Cioè scendiamo così Quindi qua ci saranno I materiali da costruzione Quindi qua tutta la cobblestone Qua tutta l'andesite Qua tutta la diorite E qua ci sarà tutta la granite Poi magari qua ci metterò Non so tipo il legno C'era il legno di quercia Il legno di acacia Il legno di betulla Il legno Lo spruce E così via Adesso 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 Allora qua abbiamo detto Che ci dovranno essere delle scale Quindi Intanto ne ho due Sì Posso farne quattro Poi dovrò trovare assolutamente Degli slime E farmi magari Una farm di slime Per avere un accesso Facilitato Più che un accesso Un'uscita facilitata Alla sta zona Così recuperiamo ancora Un po' di spruce Adesso dobbiamo aspettare Che cada tutta sta chioma Per vedere se c'eri da altri Sapling Intanto che ci sono però Voglio fare una cosa Ho visto che qua in zona Ci sono un po' di animali Quindi voglio iniziare A andare a recuperarli Perché tipo per le mucche Mi servirà un sacco di pelle Io nel precedente Uno dei precedenti episodi Ho ucciso Quello la collama Che mi ha dato Questo lead Con questo lead Posso Prendermi Gli animali E portarmeli qua a casa Allora sta venendo a notte Quindi aspetto un attimo Facciamo questo buco da 6 E ci metteremo una mucca Perché qua dietro C'erano le mucche Adesso là Esplorando così a random Ho visto delle pecore Quindi io inizio A portarmi a casa Un po' tutti gli animali E poi Nei prossimi episodi Iniziamo a farci le farm Per ogni animale Allora tu vieni qua subito con me Non prendere troppo danno Stai venendo Bravissima Altro che grano Seguimi Seguimi Dai Vieni qua dentro Ridammi il lead Quindi una presa Poi dovrò iniziare a farmi anche Qualche piccola farm di grano Tanto per farle accoppiare Non dirmi che ce n'era una sola Ma come mastodonti Col mio castello Visto da qua Dai ma che sfiga Cos'è quella roba lì What? Intanto che ci sono Vado a prendere anche la pecora Devo mettere anche il cibo a cuocere L'ho finito Allora prendo dalla farm di pesca Il cibo Lo faccio un attimo cuocere Ovviamente ragazzi Scrivetemi nei convinti Cosa ve ne pare di questo Di questa costruzione E non è troppo particolare Perché è abbastanza regolamentare Fondamentare Però mi piace Mi piace assai Ah guarda qua Le sue amiche Va bene Arriverò a prendere anche voi Ma se le portassi Un po' e un po' Vediamo Secondo voi Ha senso O cerresci che scappi E torni indietro Cosa bruchi l'erba Vi sto pian piano avvicinando a casa Non costringetemi A venirvi a prendere uno alla volta Dai Brava Stai ferma lì immobile Intanto porto tua cugina qua sotto Collide è tutto più semplice Altro che grano Vorrei indicativamente mettere Tutti gli animali momentaneamente Nella stessa zona Quindi le mucche sono lì Facciamo un buco a fianco Per la nostra amica pecora Ottimo Tu stai lì Vado a prendere tua sorella Che è un secondo ferro Sua cugina Adesso è diventata sua sorella E anche tu Vai a finire nella buca Ok Quindi due mucche e due pecore Ce le abbiamo Per il momento va bene così No due mucche no Ne ho una sola Mannaggia Ho una mucche e due pecore Vediamo se c'è una mucca qua in zona Uno zombie che prende fuoco Tra l'altro lì sotto Se vedete delle torce Ho andato a scavare dei materiali Ho recuperato tipo del ferro Forse si è visto anche Nel precedente episodio Madonna ragazzi Ho dei vuoti di memoria incredibili Devi morire Bravo Madonna che timing Incredibile Niente raga C'è una Cos'è quella roba lì? Una capocchia in aria Non ci sono altri animali Vabbè per il momento Ci accontentiamo così Ok Quindi ho tre item frame Inizio a metterli giù Nella zona del magazzino Così iniziamo a dargli Più un'idea Diciamo corretta Andesite Ho and site And the right Qua ci andrà poi La terra Vedete? Poi sarà tutto così Tutto intorno Più un imballato di chest Torniamo verso l'alto Buttiamo giù Quegli alberelli Che ci serve un po' di spruce Tra l'altro raga Sono mega felice Perché è uscita 4-5 giorni fa La nuova versione Della Optifine E supporta finalmente Le shaders Però per voi Fino a che non mi stancherò Terrò il minecraft Senza shaders Ci facciamo Qualche slab Faccio così E così Poi qua ci sarà la piattaforma Per saltare di sopra Adesso Devo scendere di uno Perché adesso vi faccio vedere Vi faccio capire Cosa voglio fare Poi non vedo l'ora di andare nel nether O prenderla glowstone Per fare le glowstone lamp Io sono un amante Delle glowstone lamp Sono fantastiche Mi piacciono un sacco Comunque vedo che tutti I canali Ben o male Grandi Piccoli Hanno un soprannome Per i propri followers E io ho deciso Che da oggi Voi sarete i miei tori Il soprannome Degli iscritti Del canale di zanzo Sarà tori E tori non come tigre In giapponese Proprio tori L'animale Quindi voi sarete I miei tori del cristo Scendo di uno Due ne mancano Mannaggia Ok Quindi Noi arriveremo Su sta piattaforma E poi scendiamo In modo da avere Poi All'altezza corretta Le nostre Dato un pugno Al microfono Le nostre ceste Quindi adesso Scavo tutta questa zona Non avevo in mente Questo progetto L'altra volta Quindi non l'avevo già fatto Ci ricolleghiamo Appena ho svuotato bene Tutta qua Questa stanza Mi manca solo Questa striscia qua E poi ci sono Sono arrivato Al pelo Con le ceste Perfetto Sono al pelo Quindi con le ceste Da tutte Le zone Mettiamo giù Un paio di torce Qua sotto Adesso Dobbiamo terminare La pavimentazione Ovviamente Mi serviranno Un po' di slab Quindi trasformo Tutto in slab E vediamo Come farlo Allora Per essere All'altezza giusta Dovranno essere Poi qua così Quindi Quindi io faccio Io faccio così Oppure faccio Che saranno Già così Quindi scendo Un attimo Per poi Ritornare su Una volta Che ho fatto Tutto questo Mettiamo Le torce Anche qua Mi devo alzare Di uno Mi servirà Un po' Di spruce Ovviamente Anche qua sotto Metterò Dello spruce Tanto per farvi capire Riesco Ok O addirittura Lì potrei mettere Lo spruce log Per dargli Uno stacco Almeno Cioè Se no È tutta Una pavimentazione Uguale Vabbè dai ragazzi Allora facciamo così Adesso io vado A recuperare Un po' Di spruce E diciamo Che ci ricolleghiamo Con Le ultime Col perfezionamento Del magazzino Ma tu che vuoi Vatti Adesso mi fai saltarinare La base No Non ci provare Neanche Ok Chiaramente L'ascia È andata a farsi Benedire E 1248 Alberi dopo Il risultato È questo L'ho tagliato tutto Raga Perché era tutto identico Quindi ci sono tutte Le belle ceste qua dentro Ce ne sono un miliardo È tantissimo legno Questo raga Quindi ho distrutto Addirittura due asce Tutte slab Qua sotto Abbiamo fatto momentaneamente Questo per vediamo Come abbellirlo Fatto ad angolo Qua Queste cose qua Perché qua dietro Non mi piaceva Tenere un'altra Cioè fare il blocco Troppo grosso Di Spruce wood Niente Questo quindi È il magazzino Terminato Oddio Terminato C'è da fare Tutto il tetto E tutti Tutte le pareti Però Siamo a buon punto Perfetto ragazzi Questo episodio E la serie principale Di minecraft Termina qua Non mi ricordo neanche più A che numero siamo arrivati Vi ricordo di lasciare un bel mi piace Scrivetemi un commento Su quello che vorreste vedere Nel prossimo episodio E datemi qualche consiglio Sempre su qualche farm Da dover fare Mi avete consigliato A farm di pesca L'ho fatta subito Datemi Qualche altra farm Di animali Di cibo Non lo so Scrivetelo nei commenti Iscrivetevi al canale Se avete fatto Noi ci vediamo Nei prossimi giorni Con dei nuovi video Qui da Zanzatutto Un bel saluto E perla Se sei arrivato A questo punto Del video Scrivi nei commenti Un'ora 39 minuti E 12 secondi Che è il tempo Di registrazione In questo momento Che è il momento